Ciao a tutti. Questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda tutte le persone che mi scriveranno delle mail private per un consulto privato ad ogni consulto su richiesta e ripeto su richiesta se voi mi scriverete il vostro giorno di nascita e volete avere delle informazioni in più sul vostro giorno di nascita per quanto riguarda l'assonanza con i tarocchi un consiglio un pensiero del giorno. Insieme a questo libro io riuscirò vedete qua c'è il giorno e il mese riuscirò a darvi delle informazioni in più sulla vostra persona. Questo è un qualcosa in più che voglio regalare a tutte le persone che mi chiederanno un consulto privato e come dicevo prima mi diranno specificatamente che vogliono sapere qualcosa in più sul loro giorno di nascita. Bene, questo era un piccolo video di presentazione e adesso vi lascio al video del giorno. Ciao a tutti e benvenuti in un altro video. Prima di iniziare il video di oggi volevo rispondere a tanti mail che mi sono arrivate per quanto riguarda i numeri all'otto. In questo periodo il lotto è sospeso sia nelle tabaccherie e nelle ricevitorie che online. Però molti mi hanno fatto richiesta per avere dei numerini da poter giocare al 10 e l'otto. Allora quando mi sarà possibile io prenderò il mio mazzo di carte adatto proprio per l'uscita dei numeri e magari uscirò 5 carte e con queste 5 carte riusciremo ad estrapolare 5 numerini da poter giocare al 10 e l'otto online. Presumo che le persone che me l'hanno richiesto sono registrate al sito della lottomatica e vogliono magari tentare con un euro per fare questa giocata. Bene era soltanto un video comunicazione un piccolo video comunicazione che metterò all'inizio di ogni video se mi sarà possibile alla fine di ogni video metterò questi 5 numeri da poter giocare quando lo riterrete opportuno. Tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Morgana e questo è il mio canale di video interattivi. A tal proposito vorrevo ricordare che i miei video sono appunto degli interattivi, sono delle stesure generalizzate e non sono dei video personalizzati per ognuno di voi. Questo lo dico perché molti mi chiedono, mi fanno delle domande in base alla variante che hanno scelto però io non posso rispondere perché questo è un video che va ad abbracciare tantissime persone, tantissime situazioni e per fare un video specifico, per una domanda specifica ho bisogno di alcuni dati. A tal proposito ricordo che chi volesse iscrivermi la mia casella di posta è nelle info e appare ogni tanto durante il video e chi avesse bisogno mi può scrivere. Ricordo che il metodo di pagamento è semplicemente quello che io scrivo nelle mail di risposta. I commenti dei video sono in approvazione, nessuno può scrivere un commento e viene subito pubblicato perché prima deve essere approvato da me. Colgo l'occasione per ribadire ad alcune mie colleghe di non farsi pubblicità attraverso il mio canale perché il commento verrà subito rimosso e bloccato l'utente. Benissimo, oggi andremo a fare un interattivo abbastanza richiesto, notato nelle varie mail che mi arrivano. Mi sta dicendo qualche bugia? Ecco, in questo video andremo a scoprire se ci sta dicendo qualche bugia oppure no e vedere il motivo perché ci dice queste bugie. Bene, le varianti sono sempre tre, uno, cinque e nove. Voi nel frattempo avete avuto il tempo di scegliere la variante, per chi non avesse avuto tempo può mettere in pausa il video e scegliere uno dei tre simboli. E io vado a iniziare con la variante per chi ha scelto il numero uno. Andiamo innanzitutto a fare, a scegliere l'energia. Vediamo qual è l'energia che esce, se ci dà già un anticipo della risposta, se ci sta dicendo delle bugie oppure no. Vediamo un po'. La forza Perciò la forza nei tarocchi sta a significare non una forza fisica, non una forza brutale, ma più che altro la forza dell'intuito, la forza della gentilezza. Perciò la forza che noi abbiamo dentro noi stessi. Adesso con i tarocchi alternativi andremo a vedere se la risposta alla nostra domanda è un sì o un no. E poi faremo una stesa per capire il perché del sì o il perché del no. Allora, ci sta dicendo qualche bugia? Adesso andiamo a prendere due carte. Una per il sì, sì ci sta mentendo, no non ci sta mettendo. Allora, abbiamo il giudizio come sì e l'appeso come no. Perciò il giudizio è sì, ci sta mentendo. L'appeso è no, non ci sta mentendo. Vediamo qual è la carta che uscirà per prima. Se il giudizio o l'appeso. L'appeso, no. Non ci sta mentendo. Mettiamo qua. E' sincero. Andiamo a vedere con la stesa cosa ci dicono le carte. Perciò potete stare tranquilli che non ci sta mentendo. Adesso andiamo a vedere un po' più da vicino. Uno, due, tre, quattro e cinque. Benissimo. Allora. Le carte ci fanno capire che questa persona non ci mente perché nel suo passato già ha avuto abbastanza dispiaceri. Ha avuto già una situazione abbastanza pesante da dover gestire e ha avuto una situazione di, diciamo, di falsità. Cioè ha avuto a che fare con persone che poi già nella sua vita si sono rivelate delle persone false. E' come se lui in passato si fosse fidato ciecamente di una persona che potrebbe essere un'altra donna, potrebbe essere un amico, un familiare, qualsiasi tipo di persona. e già nel suo passato lui ha avuto a che fare con bugie, con tradimenti, con falsità. Questo, che cosa comporta nella situazione che ha attualmente con voi? Ha, diciamo, lui ha avuto la sorpresa di riuscire a trovare una persona genuina e gentile come voi e ha trovato la forza interiore come, appunto, dice la carta della forza e come, diciamo, specifica anche l'appeso nel suo significato perché, diciamo, la carta dell'appeso sta a significare tutto quello che è la conversione tutto quello che è il rinnovamento, il sacrificio perciò lui, di fondo, ha dovuto fare un grosso sacrificio per fidarsi di nuovo delle persone ed è capitato, diciamo, con una persona che siete voi che gli ha portato una gradita sorpresa questa gradita sorpresa, al momento che sta vivendo con voi per lui è come un rinnovamento, per lui è come essere nato di nuovo vediamo qualche altra carta infatti infatti a lui non sembra vero di essere riuscito a trovare la gioia di essere riuscito ad avere sicuramente comunque lui ha sofferto per un'altra donna ecco, ve lo dico subito perché qua mi esce la figura della donna attraverso queste carte queste tre carte c'è questa donna questa donna è come se lo avesse imprigionato psicologicamente e poi si sia rivelata quello che non è sicuramente lo avrà tradito e quando lui ha avuto la gioia di incontrare voi e di avere, diciamo, la riuscita di questo rapporto con voi non gli sembrava vero è stato per lui un sacrificio diciamo ha dovuto trovare dentro di sé la forza di volontà per riuscire a fidarsi di nuovo delle persone perché era arrivato ad una forma di isolamento e di prigionia che lo portava ad non fidarsi più di nessuno perciò non vi dice bugie non vi nasconde niente perché già lui ci è passato in una situazione del genere e non vuole né passarci di nuovo né tanto meno che un'altra persona passi quello che lui ha sofferto tanto tempo fa bene, andiamo a fare la variante per chi ha scelto il simbolo del 5 che corrisponde alla variante numero 2 andiamo a vedere quali sono le energie per la variante se ci sta dicendo qualche bugia vediamo un po' 10 d'estate hai una vita emotivamente appagante con la tua famiglia e i tuoi amici cresci figli con saggezza intorno a te ci sono persone di cui ti puoi fidare perciò già abbiamo una bella carta come energia abbiamo la carta di una situazione di cui noi ci possiamo fidare delle persone che abbiamo accanto però fondamentalmente noi vogliamo sapere se la persona per cui proviamo un sentimento ci dice qualche bugia o no andiamo a prendere i tarocchi alternativi per il sì e per il no abbiamo l'imperatore per il sì ci sta mentendo e di nuovo l'appeso per il no non ci mente perciò l'imperatore ci dice le bugie vediamo cosa esce se esce l'imperatore o l'appeso vediamo un po' è uscito l'imperatore ed è uscito l'imperatore dopo tante carte perciò l'imperatore era per il sì ci dice le bugie e dico io che ce ne dice parecchie uscendo dopo tante carte significa che ce ne dice parecchie perciò siamo attorniati da persone di cui ci possiamo fidare però la persona che interessa a noi qualche bugia ce la dice adesso andiamo a vedere se le carte rispondono e che tipo di bugia ci dice magari ci dice qualche bugia bianca per non farci soffrire o magari ci nasconde qualcosa di più pesante andiamo a vedere una due tre quattro e cinque vediamo un pochino allora diciamo che mi sa che qua ci nasconde qualcun'altra perché vedete questa è la carta della volubilità della slealtà cioè questa persona è molto soggetto al fascino femminile è molto soggetto al fascino femminile però voi lo sapete voi lo sapete perché già avete avuto dei dispiacere già avete avuto dei contrasti avete avuto delle liti avete avuto delle liti per altre donne perciò voi sapete questa persona come è fatta infatti il vostro pensiero lo sa il vostro pensiero sa che lui vi dice delle bugie perché è molto affascinato dalle donne è quel classico uomo che quando vede una donna non capisce più niente voi lo sapete voi lo sapete però è come se a voi questa situazione non lo so è come se foste accecati da questo uomo non vedete altro che lui il vostro pensiero è sempre a queste situazioni che a lui vengono diciamo sotto mano perché anche perché sicuramente è un uomo abbastanza piacente e ha una una vasta cerchia di amicizie che lo portano molto spesso a conoscere delle donne nuove magari per lavoro non lo so per hobby per sport o per un qualche motivo nella sua vita lui è predisposto a conoscere tante persone tante donne soprattutto di queste donne e a molte diciamo fa il provolone ecco chiamiamolo così e voi già avete avuto abbastanza avete avuto voi due abbastanza discussioni riguardante questo argomento perché voi lo sapete che vi mente e sapete il motivo che vi mente e che cosa vi nasconde andiamo a prendere qualche altra carta voi lo sapete voi lo sapete avete avuto anche diciamo delle notizie avete avuto delle notizie c'è qualcuno che è venuto a dirvelo avete avuto la visita di qualcuno che vi è venuto a dare delle notizie che vi hanno fatto dispiacere però voi siete imprigionato da questa situazione voi siete imprigionata da questa situazione perché siete come ammaliate da quest'uomo anche se voi ci discutete anche se voi sapete che lui vi mente sapete che lui ha altre relazioni con altre donne però è come se se voi non riuscite non riuscite a uscire da questa prigione il vostro pensiero è sempre rivolto a quest'uomo che conosce altre persone magari ogni tanto gli fate qualche sfuriata di gelosia avete avuto la visita di persone che sono venute a raccontarvi di averlo visto con altre persone anche in situazioni abbastanza compromettenti ma a voi è come se non interessa voi vedete lui e nessun altro cioè di tante persone che vi circondano e che voi vi potete fidare andate a capitare giusto a quest'uomo di cui non vi potete fidare io vi consiglio di aprire gli occhi e di prendere una decisione definitiva adesso andiamo a fare la stesa per la terza variante anche perché nella variante di prima voi sapete perfettamente che quest'uomo non cambierà mai non è che c'è possibilità che cambi perché a lui sta bene tanto voi siete sempre la che lo aspettate il porto sicuro ce l'ha e lui continua a fare quello che vuole comunque passiamo alla terza variante vediamo qual è l'energia di questa terza variante se ci dice qualche bugia oppure no la principessa d'autunno buone notizie sul lavoro promozioni o borse di studio piani ben pensati per per funzionamento alla perfezione serve una piccola la spinta per partire allora o siete voi o siete lui che siete molto dediti al lavoro oppure allo studio siete una persona responsabile allegra e siete una persona abbastanza studiosa dobbiamo vedere se questo questo studio questo lavoro questo questa ottima predisposizione a fare le cose bene e anche nella vita sentimentale allora andiamo a prendere le nostre due carte per il sì ci mente la papessa per il no l'amore gli amanti sarebbero allora la papessa ci mente e l'amore non ci mente vediamo chi è che uscirà per primo se ci dice bugie esce la papessa se non ci dice bugie esce l'amore l'amore gli amanti non ci dice bugie gli amanti erano per il no perciò vediamo che cosa ci dicono le carte qual è la predisposizione di questa persona diciamo che è una persona allora che è molto dedita all'imparare ecco al lavoro allo studio e gli piace molto ama ama proprio studiare impegnarsi in qualsiasi ambito che sia lavorativo oppure che sia a livello di hobby questi due vogliono uscire insieme e noi le accontentiamo anche queste due però questa era prima e questa era dopo in questa stesa che faccio io è anche importante la posizione in cui esce la carta bene qui abbiamo una persona abbastanza ferma abbastanza decisa e diciamo che potrebbe anche essere un ostacolo nella sua vita questa sua fermezza no no potete stare tranquille potete stare tranquille perché non vi dice delle bugie non vi dice delle bugie perché questa persona diciamo al centro della sua mente ci siete voi di fondo però questa persona è molto ferma è molto decisa il suo pensiero è a livello proprio intellettuale cioè il suo pensiero esce la carta del medico insieme alla carta del pensiero perché lui è come se fosse un medico i medici ad esempio devono sempre studiare devono sempre aggiornarsi sicuramente avrà un tipo di lavoro che lo porterà sempre ad essere sui libri non so potrebbe essere un medico potrebbe essere un magistrato un avvocato un qualcuno che si occupa sì del suo lavoro però si occupa anche di aggiornare sempre il suo stato lavorativo perciò contemporaneamente studi contemporaneamente lavora ma deve anche studiare per aggiornare il suo il suo pensiero il suo intelletto è come se questa persona avesse sempre fame di cultura fame di novità e diciamo questa sua fermezza questa sua presa di posizione in questo suo carattere così tutto dedito diciamo allo studio e al lavoro a voi magari può fare pensare che vi nasconda qualcosa ma non non vi nasconde niente no 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 non dovete essere gelose perché voi siete un po' gelose di questo suo diciamo modo di fare di questo suo modo di comportarsi siete un po' gelose magari ogni tanto lo spiate pure per vedere se magari sui social o su magari non lo so whatsapp qualche telefonata qualche messaggino è come se voi vorreste trovare questa novità ma invece sicuramente non la trovate voi siete la sua sposa la sua fanciulla lui vi vede come un qualcosa da proteggere un qualcosa che deve tenere diciamo deve tenere al sicuro deve tenere al riparo e di contro lui è prigioniero di questo suo fattore mentale che lo porta sempre allo studio sempre al lavoro sempre alle novità che riguardano il suo lavoro e magari quando è sui libri quando è magari non lo so perché ci sono tante persone che anche nel periodo di quarantena lavorano e perciò magari quando è al lavoro e vi dice che ritarda voi subito pensate male pensate subito che c'è qualcun'altra che vi sta mentendo e invece no io vi posso assicurare che non vi mente voi siete per lui come un qualcosa da proteggere un qualcosa da tenere sempre su un piedistallo ecco e l'unico suo handicap purtroppo è il lavoro lo studio alimentare questa sua fame intellettuale che non che non non riesce e non vuole far morire di fame ecco lui deve sempre studiare deve sempre aggiornarsi sulle novità o magari semplicemente tenersi informato sulla situazione sui eventi è una di quelle persone che ha bisogno sempre di alimentare la propria mente e il proprio intelletto bene anche per oggi siamo giunti alla fine di questo video io vi ringrazio per averlo visto se se vi è piaciuto il video l'argomento che ho trattato lasciatemi un pollice in su così io capirò che magari l'argomento vi piace e ne potrò fare degli altri simili vi ricordo che chi volesse iscrivermi il mio indirizzo di posto elettronica è nelle info e sovra impressione io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video